Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel con l'appuntamento settimanale dedicato alla rubrica in salute curato dalla dottoressa Ilvira Serra che quest'oggi ci parlerà della fibromialgia. Dottoressa allora che cos'è la fibromialgia? Spieghiamolo ai telespettatori di Cilento Channel. Buongiorno innanzitutto e bentrovati. La fibromialgia è una sindrome quindi è un insieme di sintomi che caratterizzano una malattia dovuta ai muscoli, alle articolazioni, alle sinovie in particolare quindi ai tendini. E' ad oggi una malattia, una sindrome che colpisce circa 2 milioni di persone e si tratta di una popolazione quasi del tutto femminile. Perché ho detto è una sindrome e non una malattia? Perché è fatta da un insieme di sintomi. Innanzitutto il dolore muscolare dei tendini e delle articolazioni. Quindi il nostro paziente è un paziente che non ha un dolore di tipo degenerativo, cioè un dolore che viene durante il movimento ma manifesta questo dolore a riposo per tutto l'arco della giornata ed è un dolore tipo cronico perché perdura da almeno tre mesi. C'è qualche rimedio al quale insomma ricorrere per alliviare questa patologia? Oggi si conosce molto di più perché sappiamo che questo è un paziente che consuma energia di continuo, i suoi muscoli non vanno mai a riposo e quindi ha una stanchezza cronica. Questo paziente purtroppo non riesce più ad attenere alle sue quotidiane attività ed è un paziente incompreso perché alla fine molti lo definiscono un ansioso depresso che ha la cefalea, che ha il colon irritabile. Per cui l'atteggiamento che bisogna tenere per il paziente fibromialgico è un atteggiamento complessivo che lo aiuti per il dolore, per il rilassamento, che lo aiuti anche con un'attività fisica. Tant'è vero che nel mio gruppo di lavoro della fisiomedica noi abbiamo il fisioterapista che si occupa di una terapia globale, ad esempio la mesier va benissimo. Poi il paziente viene innanzitutto inquadrato dal fisiatra perché il fisiatra lo visita, fa un'anamnesi attenta, riconosce sintomi e trova il piano terapeutico più adatto a questo paziente. Molto fa la terapia del dolore di cui io mi occupo da anni, molto fa anche l'ozonoterapia. L'ozonoterapia può aiutare moltissimo nei punti tender points, così si chiamano i punti del dolore, quindi alla digitopressione noi li ricerchiamo e li trattiamo con l'ozonoterapia. L'ozonoterapia può essere anche fatta per infusione endovenosa e quindi andiamo a curare tutto quanto il corpo. È un paziente che se non può guarire totalmente perché è una malattia cronica, che può scaturire anche da un trauma, da un periodo di stress, da una gravidanza, da una difficoltà sul lavoro in cui l'organismo risponde accentuando tutti i sintomi. Quindi è un corpo che si difende continuamente, ma in questa difesa continua ha una stanchezza cronica e un dolore fisso che non lo aiuta nella sua vita quotidiana. Grazie dottoressa per i preziosi consigli, grazie anche ai nostri telespettatori per l'attenzione e l'appuntamento con la rubrica In Salute torna la prossima settimana.